In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Maria Sede Sapientiae, ora Pronobis. Carissimi fedeli, continuiamo oggi e vorrei terminare il discorso sul tabernacolo, ma prima voglio ricordarvi di iscrivervi al mio canale YouTube Don Enrico Maria Roncaglia per avere sempre le notifiche dei video che pubblicherò. Bene, cominciamo con la prima diapositiva di oggi. Ecco questo ciborio, questo tronetto, è un tronetto fisso che poggia su un tabernacolo. Il tabernacolo non si vede, si vede appena questa cornice che è la cornice dell'ultima mensola dell'altare e i capitelli delle colonne del tabernacolo. Il tronetto è realizzato in questo stile barocco siciliano con all'interno la croce. Nello sfondo questi stucchi che fanno vedere delle nuvole, degli angeli e una ghirlanda di fiori. Questo è molto bello, ho pensato di aprire con questa diapositiva. In questa notiamo invece un tronetto mobile che va appoggiato o sulla mensa dell'altare per sostenere lo stensorio nelle adorazioni comuni, ordinarie, oppure all'interno del tronetto nelle adorazioni solenni. Questa diapositiva vi fa vedere come all'interno della Santa Casa di Loreto c'era un tabernacolo fino poco tempo fa, penso un anno e mezzo, due anni fa al massimo, c'era il tabernacolo collocato al centro dell'altare, poi per una scelta certamente non cattolica è stato tolto da questo ambiente. Se il tabernacolo è la casa di Gesù sulla terra, collocato nella casa stessa del Signore, e sopra all'altare degli apostoli aveva la sua collocazione migliore. Vediamo la prossima diapositiva. Un tabernacolo all'interno, foderato in seta bianca, notate il ricamo all'interno della porticina, il ricamo, la porticina è imbottita questa tela, sempre seta, ricamo che porta al centro l'agnello sacrificato, una raggera sotto e sopra i gigli. Qui abbiamo invece un altare molto bello, in stile barocco, barocco bavarese, che troviamo non solo in Baviera ma anche in Austria e nell'Italia del nord. Il tabernacolo non si vede perché è coperto dalla figura del sacerdote ed è sormontato da questo bellissimo tempietto, tronetto, se vogliamo chiamarlo ciborio. Tabernacolo e tempietto sono circondati da una gloria, cioè da una raggera. Il tutto è realizzato in legno, ricoperto di foglia d'oro. Ancora all'interno di un tabernacolo, per farvi vedere non solo che è foderato in seta bianca con dei bei ricami, ma anche questa specie di cassetto è una mensola con un pomello, si tira come se fosse un cassetto, per estrarre i vasi sacri contenuti nel tabernacolo. Questa è molto importante quando il tabernacolo è troppo in alto rispetto al sacerdote oppure anche troppo profondo rispetto alle possibilità del sacerdote che celebra. Sulla mensola estraibile c'è un telo bianco inamidato che deve essere sempre sul fondo dei tabernacoli. Qui invece abbiamo un tabernacolo commerciale. I tabernacoli commerciali, industriali, non sono belli, diciamolo subito, confrontati con quelli artigianali, impallidiscono. Hanno però un loro punto a favore, cioè sono delle cassette di sicurezza, sono delle piccole cassaforti. Ecco questa porticina è senz'altro armata, blindata, e ha, vedete qui, i perni che vanno a inserirsi nello stipite opposto. Il rivestimento interno del tabernacolo, dicevo, ha due possibilità, o la seta bianca o questa lamina di metallo dorato. Il metallo può essere anche argentato. Qui invece abbiamo un tronetto mobile, un tronetto mobile che va poggiato certamente non sulla mensa dell'altare, ma vedete come tutto è decorato, quindi è per le adorazioni solenni e va poggiato sul tabernacolo. Naturalmente il tabernacolo sul quale viene poggiato questo tronetto non può terminare con una cuspide, cioè come un tetto a spiovente, non può terminare con una cupola, ma in piano per poter poggiare questo tronetto mobile. Perché, fratelli carissimi, vi faccio vedere queste immagini e vi parlo di questi particolari che potrebbero sembrare anche inutili oppure una mia fissazione personale. Non è per questo. Non sono fissato sulle cose e sugli oggetti. Tra l'altro il Signore non si lega agli oggetti, ricordiamocelo bene. Se vi faccio vedere queste cose per farvi notare da che altezza siamo caduti nell'abisso in cui noi ci troviamo, nella distanza di pochi decenni. Siamo sprofondati in un tipo di culto che non è più rivolto a Dio, ma è rivolto all'uomo per soddisfare le esigenze umane, non certamente per l'amore di Dio, per l'onore del Signore, per la gloria del Signore. Non si fa più nulla solo per la gloria di Dio. E perciò, anche per questo motivo, Dio diserta le nostre chiese. E i tabernacoli sono vuoti. Però il Signore cerca ancora cuori disposti a credere, cuori che non si legano alle consuetudini, cuori che non si legano agli oggetti, alle cose, ma che cercano soltanto Lui. Se vi faccio vedere queste cose, è per capire come i nostri padri, i nostri nonni, i nostri antenati, hanno cercato di amare il Signore. E' questo il valore che noi non dobbiamo perdere. L'Eucarestia non è scomparsa nelle celebrazioni in unione al vero Papa, Benedetto XVI, nelle celebrazioni che si compiono all'interno della vera Chiesa, alla sposa di Cristo. Gesù continua ad essere presente. Sia lodato Gesù Cristo.